Un tubo di Ethernet e la paura di una contaminazione d'amianto di tutta l'area di scavo. È questo alla base dello stop dei lavori di piazza Zara alla terrazza della Repubblica. Uno stop che ha creato allarme soprattutto tra i balneari della zona che dal 29 febbraio vedono l'area interdetta per gli scavi ma nessun operaio al lavoro. A chiarire in qualche modo quello che sta succedendo è stato il sindaco del Ghingaro che ha affermato come la ditta che ha vinto l'appalto per i lavori abbia avanzato numerose richieste all'amministrazione comunale proprio in merito al pericolo amianto dopo che era stato trovato un tubo di Ethernet. Pericolo che, stando a quanto affermato da del Ghingaro, le stesse analisi dell'ASL avrebbero fugato. Questo è avvenuto il 29 febbraio. Noi abbiamo fatto fare le analisi a tutto il terreno circostante naturalmente tramite anche l'ASL e è venuto fuori naturalmente che è tutto a posto, non c'è la minima contaminazione e quindi i lavori potevano tranquillamente proseguire. Secondo il sindaco però alla base dello stop ci sarebbero anche nuove richieste economiche avanzate della ditta alla quale è stato però intimato di accelerare nei lavori per riuscire a consegnare l'opera entro il termine stabilito del 30 aprile. In osservanza di tale scadenza costringerebbe l'amministrazione comunale a rivolgersi alla seconda ditta classificata nella gara d'appalto. Noi abbiamo scritto all'azienda tramite il direttore dei lavori e abbiamo chiesto di riprendere immediatamente l'attività e in dieci giorni colmare il gap di ritardo che avevano accumulato in queste settimane. Se ciò non avvenisse e se si trovasse altre situazioni diciamo così che potessero ritardare la fine dei lavori noi affideremo i lavori stessi al secondo arrivato della gara a suo tempo assegnata. Grazie. 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 Grazie.